Ciao a tutti fedeli follower della Fairy Family Film, benvenuti a questa nuova non retensione ma trailer reaction. È passato un po' di tempo, aspettavamo un trailer importante per, diciamo, riesumare questa nostra, questa nuova rubrica. Quale trailer più importante per me, più atteso per me, che il nuovo teaser trailer della serie Ahsoka, dedicata ad Ahsoka Tano, uscita oggi, Star Wars Celebration, non perdiamo tempo, una serie che attendo tantissimo, un'uscita nei prossimi, nei prossimi mesi e niente, guardiamo subito questo trailer, non mi perdo ulteriormente in chiacchiere. 3, 2, 1, via! Ahsoka con il cappuccio va sempre alla sua figura. Quando non ti serve l'ascensore. Ah, Sabine, 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 Sabine! Fatta bene Sabine. Era sin nulla, figata! Ehi, Topper! Ok, un po' di siti in giro. Amon, Mothman, amon, Mothman, molto bene che ci sia anche... Guardalo! Brividini, ragazzi, brividini. Ah, però! Ezra? Allora, Che dire, che dire, che dire, sicuramente trailer di estremo interesse, sembra esserci un sacco di azioni, un sacco di personaggi, un sacco di situazioni, quindi sicuramente è il tipo di trailer che ti fa crescere l'hype perché mostrano un sacco di cosa. Rivediamo quelle che dovevamo vedere, nel senso che ci mostrano subito Sabine, fatta da Dio, ci mostrano subito Hera Sindulla, fatta da Dio, vediamo anche Chopper, insomma, sono praticamente identici alla serie animata Star Wars Rebels, quindi veramente una resa eccellente, vabbè, Rosario Doso non ne parliamo che è fantastica nel personaggio, nata per interpretare Azokatano, mettiamola così. E poi vediamo anche un sacco di cose che, allora, si vede Throne di spalle, qui, diciamo, ci sta, ci sta benissimo, mi è piaciuto molto come l'hanno presentato erede dell'impero perché, insomma, è accattivante come cosa, noi abbiamo finora visto Throne come generale dell'impero, pensarlo, insomma, come effettivamente, siccome a livello di villain è fatto da Dio, pensarlo come erede dell'impero, ci sta, ci sta molto bene, ci sta molto bene, considerato che The Mandalorian è inventato dopo, prima della nascita del primo ordine, quindi immagino che anche questa serie qua stia più bene in quel livello temporale, è tanta roba. E poi, vabbè, troviamo Bailan e l'altra tizia, che come villain tipo Sith barra ex inquisitori, barra non so bene come li presenteranno, però fanno veramente la loro porca figura. Bailan, quando avanza, proprio sembra Lord Fener dei migliori tempi, ammazza gente, strangola personaggi. Vediamo poi, a un bel momento, anche Mon Mothma, sicuramente un ruolo politico importante ce l'avrà, perché noi finora Mon Mothma l'abbiamo vista solamente, diciamo, a livello di resistenza, quindi tra Andor e Star Wars Rebels, quindi, insomma, molto carina come cosa quella. Accattivante il fatto che troviamo anche Ezra Bridger, nel senso che si vede un'immagine, penso che fosse lui, però, prendetela con le pinze, penso fosse lui Ezra Bridger o guardato da Sabine Ren, quindi, insomma, si vede che comunque la serie partirà con la ricerca di Ezra, e poi un sacco di cose, un sacco di cose, c'è anche un personaggio orientale, una signora orientale, barra cinese, che non vorrei fosse Fennexian, però l'ho vista proprio di sfuggita, quindi può essere che sia un altro personaggio completamente, l'attrice sembrava lei, però, portate pazienza. E no, ecco, una cosa così che ho colto sempre, forse di sfuggita, nel momento in cui lottano Beilan e Ahsoka, sembrano essere, se guardate bene lo sfondo con tutte le luci, mi è sembrato che potessero essere nel World Within Worlds, nel mondo tra i mondi, quello in cui già si erano trovati Ahsoka e Ezra quando avevano combattuto, tra virgolette, contro Palpatine, contro l'imperatore, e quindi ecco, così, siccome sarà parlato di questo mondo tra i mondi come presenza in questa serie, ecco, può essere che ci abbiano già mostrato che lì ne vedremo delle belle, comunque niente, un sacco di azioni, un sacco di situazioni, un sacco di paesaggi, di scenografie, di cose, spada laser, Jedi, ribelli, resistenza, Sith, rinascita dell'impero, politica, throne, era, insomma, tutti i personaggi che abbiamo conosciuto, fatti da Dio, quindi, veramente, hype pazzesca, trailer che mi sono disso appieno, e non vedo l'ora, non vedo l'ora che sia questa estate per guardare la, per guardare questa serie. Se mi sono perso qualcosa, fatemi sapere nei commenti, se c'è qualche elemento di questo trailer che non ho colto, qualche errore che ho commesso, insomma, l'ho visto, una reaction a caldo, adesso, a caldo, adesso vado ad informarmi anche meglio un po' io su qualche, diciamo, sito un po' più ferrato di me in materia, per il resto, iscriversi, mettere like al video, e ci vediamo molto presto con altri contenuti della Fairy Family Film. Ciao a tutti!